Siamo arrivati anche alla pagina sportiva del TG Noi. Iniziamo con una bella notizia di atletica sulla pedana di La Spezia. Idea Pieroni ha vinto il titolo italiano assoluto di salto in alto con la misura di un metro e 88 centimetri. La carabiniera barghigiana dell'atletica Virtus.Luca ha quindi ritrovato brillantezza in misura e grazie anche all'ottimo lavoro svolto dal suo allenatore Luca Rapè. Dopo il 1,91 saltato due settimane fa a Siena, Idea Pieroni si conferma quindi la numero uno a livello nazionale e cancella definitivamente un periodo difficile dove i risultati non erano arrivati. Passiamo al calcio con una novità per il prossimo campionato di Lega Pro dove anche le squadre B potranno retrocedere. Sono stati definiti i gironi della Serie C ma non si fermano gli strascichi polemici per la presenza delle squadre B di Atalanta, Juventus e adesso anche Milan. Si tratta di tre società del nord che a sorteggio sono state distribuite nei tre raggruppamenti geografici con i bianconeri che per tutto l'anno saranno chiamati a trasferte dal Piemonte alla Calabria alla Sicilia e naturalmente viceversa per tutte le squadre del girone. Una presenza ingombrante destinata addirittura ad aumentare con il merito sportivo che viene calpestato in virtù della ragione di Stato. Unico cambiamento in vista quello della possibilità per queste tre formazioni di retrocedere come tutte le altre compagini. Per quanto riguarda il regolamento, il Consiglio di Lega ha infatti confermato la possibilità di promozione in Serie B per le seconde squadre e l'obbligo di rimanere ad almeno una categoria di distanza dalla prima squadra. La grande novità sarà la possibilità di retrocedere in Serie D, anche se rimane aperta l'occasione di ripescaggio una volta arrivati a ridosso del campionato successivo. Non più un vero e proprio campionato a parte, ma quasi, è un mondo, quello del calcio e del campanile, che piano piano pare proprio destinato a sparire. Un plauso quindi a tutti quei tifosi delle squadre di Serie C che per passione e attaccamento ai colori della propria città continuano le loro avventure su e giù per l'Italia. Nella prossima stagione di Hockey su pista il Forte dei Marmi, fresco vincitore dello Scudetto, rinuncerà alla partecipazione alle coppe europee. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane è arrivata la conferma ufficiale. Sentiamo Roy Lepore. Sono nove le squadre che avranno il diritto di prendere parte alle competizioni internazionali di hockey su pista. Si tratta del Forte dei Marmi, campione d'Italia in carica, ma la società Rosso-Blu, come avevamo anticipato già nella trasmissione Versilia Hockey con il direttore generale Antonio Agostini, in linea con il ridimensionamento economico messo in atto per la prossima stagione, ha deciso di rinunciare alla Champions League, motivata anche dal cambio della formula, deciso dalla VUSE che comportava un aggravio di costi. Non verranno iscritte neppure le squadre di campionato, sia di Serie A femminile che di A2 maschile. Infatti alcuni dei giovani di questa squadra verranno inseriti nella rosa di Serie A1. Giocheranno invece le competizioni internazionali Trissino, Follonica, Sarzana, Lodi, Valdagno, Grosseto, Montebello e Bassano. La fase a gironi della Champions League passerà da 4 gironi a 4 squadre e a 2 gironi da 6 squadre. Il Trissino giocherà nella fase a gironi di Champions League a partire da fine novembre. Alla fase di qualificazione a inizio novembre vi prenderanno parte Follonica, Sarzana, Lodi, il Valdagno e il Grosseto saranno protagoniste nella VUS Cup, mentre alla neonata VSE Trophy parteciperanno il Montebello e il Bassano da fine novembre. A questo punto non resta che attendere se ci sono altre società che seguono la scelta del Forte dei Marmi di rinunciare a partecipare ad una competizione internazionale. È tutto anche per lo sport, un nuovo breve break pubblicitario e ci rivediamo per la terza parte del TG.